Più ombre che luci per le attività storiche del centro di Cremona, quelle della zona vicino a Piazza Roma, sotto i portici, dove un tempo tutte le vetrine erano accese, sono sempre più in sofferenza e c'è chi medita di abbassare definitivamente la serranda, dopo anni e anni di lavoro. Con il passare del tempo, infatti, gli affari sono diminuiti. La zona è diventata un pochettino isolata, un po' decadente perché diversi negozi hanno chiuso, qualcuno è fallito, eccetera, per cui non è curato tutto il discorso dell'illuminazione e anche del condominio. Adesso sono stato costretto a fare questa svendita perché il magazzino era un pochettino intassato e si cerca di svuotarlo un po', dopo vedremo. Le prospettive non sono belle, ma comunque cerchiamo di tirare avanti. È una zona centrale dove però i passaggi sono calati e le criticità invece sono aumentate. C'è il problema del parcheggio, ci sono negozi, la maggioranza sono chiusi, per cui la strada non ha più quella vivacità che aveva prima, insomma, dopo di conseguenza la gente l'abbandona un po' perché è poco attraente. Anche noi siamo un po' in difficoltà, insomma, non vediamo delle iniziative per tirarla un po' su. La zona non viene rivitalizzata. Io ad esempio ho il problema che quando devo scaricare le scarpe devo stare attento perché non posso avere un permesso, ad esempio a differenza di Mantua, dove noi abbiamo un'attività anche lì, con 80 euro all'anno ci danno il permesso di parcheggiare perché siamo esercenti e abbiamo bisogno di un posto dove parcheggiare, dove scaricare senza dover stare lì a fare dei permessi continui. Questa cosa qua ad esempio non esiste. Le attività rendono viva la città, il centro. Non riusciamo a capire come mai non intervengano per, al di là del fatto commerciale, delle entrate eccetera, ma proprio per dare un po' di brio a questo centro che si sta sempre più spegnendo. Grazie.